Ciao, sono Michele Clementi, ho il piacere di condividere in questo video un intervento che ha fatto Gaetano Evangelista presso il Polo di Rimini, Facoltà di Statistica dell'Università di Bologna. L'argomento che tratterà Gaetano Evangelista è la relazione che c'è tra mercati reali e mercati finanziari. Gaetano Evangelista è amministratore unico di Age Italia, una società di analisi indipendente che offre sia a investitori istituzionali ma anche a privati. In ogni caso lo puoi seguire nei vari social network in particolare, vari social network è un parolone, perché è molto attivo su LinkedIn, io lo seguo da tanto tempo, molto attivo su LinkedIn, un po' meno su YouTube, ma quei pochi video che fa su YouTube sono veramente interessanti. Qui adesso avrai uno stralcio della sua grande conoscenza dei mercati finanziari. Buon ascolto e se sei nuovo del canale iscriviti così rimani aggiornato ai prossimi video, ai prossimi convegni, ai prossimi video anche che faccio io, analisi settimanale piuttosto che educazione finanziaria. Buon ascolto ancora. Va bene, allora Gaetano, loro hanno la fortuna, io lo stavo dicendo prima, che ho scoperto, mi è arrivata l'ultima edizione di Pring, che è uno dei loro libri di testo, che ho visto che sei coautore. No, co-traduttore, coautore non mi permetterei mai. Ok, va bene, tu sei analista a Geitalia, io ti seguo da anni immemorabili, loro sono dei 2004, quindi invecchiamo dicendo che io ti seguo da ancora prima. Sì, prima che nascessero. Quando usavi Echoin come software, non te l'ho mai detto questo, ma anch'io utilizzavo Echoin, mi ricordo i tuoi word con Echoin e quante cose sono cambiate, però detto questo per me sei un punto di riferimento per l'analisi indipendente, lo sai, specie per non solo l'analisi tecnica, per tutto quello che poi anche l'analisi del sentiment, sei veramente unica nella tua, come c'è scritta nella descrizione, la tua tipologia di analisi, per cui mi acquieto e lascio la parola a te. Parlerai appunto questa relazione che fa, è un argomento molto interessante, loro studiano analisi tecnica, oggi ho fatto le medie mobili per darti un'idea, siamo ancora agli inizi, però effettivamente ci si chiede tra l'economia reale, se vogliamo, e poi i prezzi di borsa, quale può essere la relazione? Grazie Michele, ben trovati, ben trovati tutti, Michele Clementi ha anticipato un po' quelle che sono le mie credenziali, io mi occupo da credo 30 anni seriamente di analisi tecnica, quando ancora non sapevo che si chiamasse in questo modo, è stato un processo di stratificazioni, di esperienze, di conoscenze, di studi massonici, carbonari all'inizio, perché non c'erano testi, non c'era materiale, non c'erano riviste, non c'era possibilità alcuna di pervenire a libri di testo degni di questo nome, poi insomma, il bello è che poi si cominci in maniera molto grossolana, con la carta millimetrata, mi ricordo ancora, e adesso si ha la possibilità di disporre di strumenti, però sicuramente voi siete qui non per sentire parlare delle mie esperienze storiche. Si ha fatto parecchio, comunque scusa, la carta millimetrata, ma neanche io ho mai usato la carta millimetrata, per cui… Senti, io l'ho ritrovata qualche giorno fa e lo rovistando fra gli archivi, ho ancora i grafici della Banca Nazionale dell'Agricoltura, che non esiste neanche più, che fu il primo acquisto che feci nell'antano 92, e quindi insomma, ne possiamo raccontare, però ora bando alle ciance, quindi le interazioni fra economia e mercati finanziari, questo è il disclaimer che vi dovrei leggere, ma do per scontato che siete talmente bravi, l'averlo già letto tutto, quindi andiamo avanti senza indugio. Ora, qui c'è un elemento, il tema di oggi, l'argomento di oggi è motivo veramente di frustrazione da parte di molti, non solo molti investitori, ma anche da parte di molti colleghi, da parte di molti professionisti che lamentano una discrepanza più o meno accentuata, più o meno duratura, fra l'evolversi e quindi il prezzo che si determina sui mercati finanziari, delle attività quotate da una parte, è quello che dovrebbe essere l'universo di riferimento, cioè l'economia reale. Questo è il motivo di frustrazione, perché diverse strategie di investimento sono state impostate, penso soprattutto all'inizio dello scorso anno, all'inizio 2023, avendo in mente uno scenario macroeconomico che poi non si è minimamente manifestato, quindi questo chiaramente ha provocato sì frustrazioni, ma anche delle perdite in termini di potenzialità, ma anche in termini di minusvalenze di portafoglio. Qui vediamo come in effetti c'è una relazione, ci dovrebbe essere tendenzialmente una relazione fra economia reale e mercati finanziari, fra prodotto interno lordo nello specifico e quotazioni del mercato azionario, ma è una relazione tanto blanda, talmente talmente blanda da non poter essere utilizzata come scolpita nella pietra. Esempio, primo esempio, nella parte di sinistra c'è l'andamento del prodotto interno lordo europeo, dell'Unione Europea, la linea è chiaramente la linea nera, che dal 2007 in poi, quindi dall'anno che precedette il primo evento epocale dal punto di vista finanziario di questo secolo, che fu la grande crisi appunto finanziaria del 2008, con il fallimento di Lehman che esasperò una crisi che già era in essere, e da quel momento il PIL europeo è cresciuto di quasi il 60%. Chi si aspettava una crescita lineare, una relazione lineare fra variabile reale PIL da una parte e mercato azionario europeo dall'altro è rimasto profondamente deluso, se è vero come vedete che lo stock 600 da quel momento in poi è sì cresciuto, ma è cresciuto di appena il 15%. Evidentemente questa relazione non c'è stata, soprattutto come vedete negli ultimi 9 anni, dal 2015 in poi l'economia nominale europea è cresciuta vistosamente il mercato azionario europeo è cresciuto di misura, quindi c'è stata veramente una bocca di coccodrillo, quindi una discrepanza notevole che non accenna a rientrare, per cui sì effettivamente non c'è stata relazione fra economia reale e mercato finanziario azionario nello specifico, come molti argomentano, ma nel senso opposto a quello che è ritenuto la narrativa in questo momento dominante, nel senso che il mercato azionario è rimasto attardato rispetto a quella che è stata la dinamica dell'economia reale nell'eurozona. E questo è un esempio, ma non è l'unico esempio. Nella parte di destra che potete osservare c'è un altro caso clamoroso di cui si discute tantissimo nell'industria del risparmio gestito, quindi nell'universo degli investitori. Ed è l'economia cinese che è un po' la grande protagonista dell'ultimo secolo, è l'economia che ha fornito il maggior apporto alla crescita del PIL globale, benché sia ancora la seconda economia al mondo, perlomeno in termini complessivi. L'economia cinese dal 2007, dal fatidico 2007 in poi, è cresciuta di sei volte in valuta locale, quindi una crescita lineare, evidente, indiscutibile. Eppure, a fronte di questa crescita travolgente, invidiabile sicuramente, dell'economia cinese, nello stesso arco di tempo il mercato azionario locale ha fatto registrare una vistosa minusvalenza. Ma come? Ma quindi non c'è nessuna relazione fra economia reale e mercati finanziari e nello specifico azionari. Così sembrerebbe di concludere, l'economia si è moltiplicata per sei volte, eppure le borse che dovrebbero essere il riflesso dell'economia, della macroeconomia, voi siete, mi pare di aver capito dal primo anno, ma già dovreste avere qualche rudimento di economia 1, insomma il mercato azionario è attardato rispetto al picco di 17 anni fa. E questo è clamoroso se si pensasse che ci fosse questo tipo di relazione, però la cosa è un po' più sfumata, vedete. Il nesso c'è, ma non è così diretto e così immediato, il nesso è indiretto e mediato. E lo vediamo da questa slide. Qui vediamo perché il mercato azionario cinese è rimasto così tragicamente attardato, perché non sono cresciuti, nel frattempo hanno ristagnato per un intero decennio i profitti delle aziende quotate sui listini azionari cinesi. Ecco, qui c'è un equivoco di fondo che va spazzato via immediatamente per evitare che questo possa incrossarsi e quindi portare a delle conclusioni, a dei modi di pensare che poi si rivelano fatalmente e tragicamente errati. Il mercato azionario è il riflesso delle aziende quotate su quel mercato e quindi della capacità di quelle aziende di produrre utili auspicabilmente crescenti. Il mercato azionario non è il riflesso dell'economia reale, lo è nella misura in cui l'economia influenza favorevolmente le aziende quotate su quel mercato. Noi compriamo frammenti di società che si chiamano azioni, non compriamo frammenti di PIL o di produzione industriale o di disoccupazione o inflazione a quello che volete o tassi di interesse. Il mercato azionario è il riflesso delle aziende e della loro capacità di produrre profitti crescenti e questi sono mancati in Cina negli ultimi dieci anni. È quello che potremmo definire il decennio perso, con riferimento a un'esperienza analoga maturata in Giappone dopo il picco del 1990. A viceversa, negli Stati Uniti lì c'è stata una crescita delle quotazioni azionarie che è stata il riflesso, è andata di pari passo, proprio parallelamente alla crescita degli utili per azione, degli earning per share. Vedete, c'è stata veramente una relazione quasi simbiotica con gli EPS, quindi gli earning per share, gli utili per azione delle compagnie dello Standard & Poor's 500 che da 2007 sono passati da 91 dollari, come quindi monte utili, a 240 dollari nel 2024, quindi per una crescita di 2,6 volte, allo stesso tempo lo Standard & Poor's 500 che sapete è l'indice che rappresenta le compagnie americane e non solo direi le compagnie globali, in realtà è passato da 1.565 punti a 5.135 punti di venerdì praticamente, quindi per una crescita di circa tre volte, poco più di tre volte. Vedete, c'è stata una relazione lineare in questo caso, quindi questo chiarisce come il rapporto c'è fra mercato e direi microeconomia, non fra mercato e macroeconomia, quindi questo è un primo elemento che dobbiamo avere ben presente, quindi dobbiamo scolpire veramente nella pietra della nostra discussione. Per il resto, la realtà è che solitamente è il mercato che anticipa l'economia, anticipa l'economia reale. Possiamo essere compiaciuti per il fatto che, dato della settimana scorsa, l'ultima revisione del PIL, del prodotto interno lordo americano del quarto trimestre, ha segnalato un'espansione del 3,1%, 3,08% del quarto trimestre del 2023 rispetto al quarto precedente. Questo è stato salutato dagli investitori con favore, visto che venerdì sono fiaccati ulteriori acquisti, quindi ulteriori pressioni verso l'alto sui prezzi e sulle quotazioni azionarie, ma è un dato che però non toglie il fatto che in realtà non dobbiamo essere compiaciuti che l'economia va bene perché questo fa crescere i mercati. Casomai è il contrario, i mercati si sono mossi favorevolmente negli ultimi 16 mesi e questo sarà proiettato, sarà riflesso in una crescita dell'economia nei prossimi trimestri, come suggerisce la didascaria che accompagna questa slide. In realtà è il mercato azionario che anticipa di due trimestri, di sei mesi l'economia reale. Qui vediamo che c'è una certa non perfetta ma accettabile, ora qualcuno di voi più dotato potrà calcolare il coefficiente di correlazione fra le due misure, però effettivamente a occhio si riesce a percepire come la performance di Wall Street, che è la linea blu, quindi il tasso di crescita annuale dell'indice San Dorempur 500, scala di destra, anticipa quindi è ben correlato all'andamento dell'economia reale, quindi del tasso di crescita trimestrale annualizzato del PIL americano, linea rossa a scala di sinistra. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che verosimilmente quest'anno, nei prossimi trimestri, nei prossimi mesi, dovremo aspettarci resoconti sui media specializzati di un'economia che crescerà sorprendentemente più delle aspettative e quindi sicuramente i profeti di sciaguri imminenti che hanno proliferato negli ultimi 14 mesi, ho idea che dovranno o cambiare mestiere o trovare altro storytelling, come si dice oggi, altra narrativa per giustificare perché queste previsioni fosche non si siano realizzate. Il mercato sta anticipando invece che la crescita economica americana, già sorprendente nei trimestri passati, è destinata a rafforzarsi ancora nei prossimi trimestri, quindi almeno, visto che il lead time, quindi la relazione anticipatrice di due trimestri, almeno nella prima metà di quest'anno. Quindi normalmente quello che sappiamo è che è il mercato, quindi l'economia finanziaria, sono i mercati finanziari che anticipano l'economia reale, questo è quello che accade in linea di principio e quindi lo possiamo considerare come un primo assunto su cui lavorare. Nella maggior parte dei casi, vedete, non sempre, ma nella maggior parte dei casi, la relazione è coincidente, non è né leading né lagging, la relazione è coincidente, quindi c'è un nesso fra mercato finanziario in generale, nello specifico mercato azionario, è non economia reale, questo è l'altro equivoco, il secondo equivoco che qui oggi volevo smantellare davanti a voi, quindi mettere veramente nero su bianco. La relazione fra mercato azionario ed economia reale in realtà è una relazione diretta, non con l'economia reale, ma con la derivata prima dell'economia reale, cioè il tasso di crescita, la variazione percentuale, la variazione anno su anno, questo è uno dei tanti esempi che possiamo mostrare, qui vediamo l'Eurostoxx 50 che, per chi non lo sapesse, l'indice più utilizzato, più proposto della performance delle borse dell'Eurozona, delle prime 50 società dell'Eurozona, nella parte superiore del grafico, nella parte inferiore osserviamo la performance, quindi il tasso di crescita a 12 mesi di questo indice, ovviamente la linea azzurra, quindi quella più chiara, scala in questo caso di destra. Vedete che c'è una certa, al di là di momenti di sganciamento che però tendono quasi sempre, per non dire sempre a rientrare, la relazione in questo caso è con il PMI, con il PMI composite, cioè con il barometro che misura lo stato di salute dell'economia reale dell'Eurozona, vista in questo caso sia nelle componenti ormai minoritarie della manifattura, del settore manifatturiero che conta in misura variabile, ma possiamo dire mediamente intorno al non più del 15% del PIL complessivo, quindi la manifattura, le fabbriche per intenderci, sono una parte minoritaria dell'apporto complessivo al valore aggiunto prodotto annualmente, la parte maggioritaria evidentemente è quella dei servizi che è preponderante nell'Eurozona come su scala ormai globale, anche in Cina, la Cina che è la fabbrica del mondo, lo è sempre più dal 2001 in poi, da quando è entrata nel WTO in avanti, ma in effetti anche in Cina la quota manifatturiera è minoritaria, anche se accentuata, siamo intorno al 30% rispetto al PIL complessivo che è dominato anche in quel caso dei servizi. Ma torniamo all'Eurozona, vedete c'è questa relazione, quindi il nesso, il rapporto c'è fra economia reale e mercato azionario, ma non fra economia reale in termini quindi grezzi, quindi in termini di valore in dollari o in Euro in valuta locale del PIL, ma fra le quotazioni azionarie da una parte è la variazione della, chito scusa, fra la performance del mercato e il misuratore dell'economia reale che in questo caso è il PMI composite che è la linea blu scala di sinistra. E' questo il vincolo che lega le due variabili, economia reale e mercato azionario. Lo possiamo vedere in diversi modi, in Italia in questo momento un misuratore dello stato di salute dell'economia reale, il leading indicator calcolato dall'Ocse, è visibilmente in territorio negativo, quindi si colloca al di sotto dei 100 punti, quindi quella soglia che separa, che delimita l'espansione economica dalla contrazione dell'attività economica, quindi l'Ocse ci dice che sul piano formale l'economia italiana è da quasi due anni in una modalità che non farebbe pervenire grandi conclusioni favorevoli, questo però è evidentemente disatteso dall'andamento del mercato azionario che è cresciuto in maniera tumultuosa da ottobre 2022 in avanti, lo vediamo qui nel grafico dell'indice MIB, del Fuzzi MIB che è un po' l'indice benchmark del nostro mercato, indice che è cresciuto di oltre il 50% in poco più di 16 mesi, sconfessando quella lettura negativa che il dato grezzo ci trasmetteva, ci forniva, questo perché ancora una volta il rapporto non è tanto fra le due variabili in maniera diretta, ma fra il mercato azionario e la derivata prima del parametro reale che era il leading indicator e che qui osserviamo in termini di variazioni a 12 mesi, la linea chiaramente è quella celeste e la scala è quella di sinistra, quindi qui ovviamente si osserva una correlazione, un'identità più stringente di quella assolutamente blanda per non dire inesistente che potevamo vedere poco fa, quindi da qui si percepisce molto meglio una relazione, così come qui si riescono a individuare delle vette, dei picchi, dei culmini nel tasso di crescita del leading economic indicator che ecco questo spesso e volentieri finisce per segnalare le fasi di stanca del mercato azionario, quindi ecco perché poi l'economia che è anticipata tipicamente dai mercati finanziari e nello specifico del mercato azionario, l'economia a sua volta ci fornisce in questo caso delle indicazioni anticipatrici, per esperienza evidentemente empiricamente possiamo osservare come tutti i picchi del tasso di crescita del leading indicator calcolato dall'Ox per l'Italia, evidentemente si vanno a collocare, vedete le linee verticali rosse che facilitano la lettura, si vanno a collocare in prossimità di massimi di un certo rilievo, alle volte massimi piuttosto importanti del mercato azionario domestico, quindi di soldoni di piazza affari e quindi l'economia in questo caso ci viene incontro fornendoci un'indicazione spesso precoce ma non così distante dal massimo assoluto di saturazione, di raggiungimento, di un livello di eccesso di crescita delle quotazioni azionarie che poi di lì a breve e spesso e volentieri svoltano verso il basso, chiaramente questo poi è una prima indicazione che il mercato, che questo setup ci fornisce, che poi chiaramente come sapete deve essere confermata da altre considerazioni, voi avete sicuramente studiato i principi della teoria di Dow e sapete che è una tendenza in essere finché non si è provato il contrario, ma l'evidenza di una svolta verso il basso come si è manifestata adesso da parte della variazione del leading indicator, vedete il flesso verso il basso della curva in azzurro, ci suggerisce la possibilità che gli ultimi mesi, i mesi più recenti della crescita di piazza affari, quindi fondamentalmente degli ultimi quattro mesi, qui sono riportati tre mesi perché ancora non conosciamo il lei di febbraio, quindi mancano entrambi i dati, ma questa svolta verso il basso sembrerebbe suggerire la possibilità che con questo imperioso rialzo che ha portato alla formazione di una performance del 50% possa avere le settimane contate, passatemi là le espressioni, quindi possa essere un rialzo che inizia ad avere debito di ossigeno perché l'economia ha raggiunto il massimo della performance, anche se in termini di derivata prima, quindi questo è un primo dato, ma ce ne sono tanti, noi possiamo utilizzare in Agio Italia, utilizziamo questo indicatore che è abbastanza sottovalutato, questo del Decomposite Leading Indicator che l'OXE calcola per le principali economie mondiali, lo utilizziamo perché è molto efficace nel definire i cambiamenti di Stato, cioè i passaggi da una fase fisiologica di contrazione del ciclo economico globale, talvolta anche di aperta recessione più o meno conclamata, a stadi invece di ripartenza, di ripresa e quindi poi di espansione economica. Questa è la fase, quindi questo transito, questo passaggio da una recessione o da una contrazione, da un appiattimento dei tassi di crescita che può o meno sfociare in territorio negativo, diventando quindi recessione a tutti gli effetti, ad una fase di ripresa, ecco questa fase è quella più proficua, più fertile per l'investitore, perché è quella che si manifesta dopo i minimi ciclici del mercato azionario e soprattutto prima di diversi mesi, per non dire anni, di crescita delle quotazioni azionarie. Qui è riportato un semplice setup, come si chiama in germano, quindi un set di regole che andiamo a individuare. Tali per cui chiediamo prima l'evidenza di un'economia che globalmente si ha raggiunto i livelli di sofferenza, quindi un'economia che batte in testa, che si manifesta sotto forma di recessione o comunque di stagnazione nella maggior parte dei casi. L'indicatore in alto è un indice di diffusione, cioè ci dice delle 17 economie che l'Ocse considera 17 fra economie sviluppate ed economie emergenti, questo misuratore ci dice quante di queste 17 economie vantino un leading indicator crescente rispetto ad un anno fa, quindi in termini di confronto anno su anno. Due è l'asticella che abbiamo fissato come soglia che identifica un'economia globalmente in disarmo, in recessione, ed è una soglia che tende a essere penetrata ciclicamente, qui abbiamo una prospettiva dal 2007 in avanti, ma vedete come è molto sinusale, è come se fosse un respiro, un battito cardiaco, quindi c'è una tendenza dell'economia a contrarsi, ad espandersi in maniera fisiologica, anche se con delle sfumature e delle differenze di volta in volta. Il messaggio però è che quando si fuoriesce da questa fase di eccesso, quindi con un'economia globale in tutti i suoi protagonisti, in tutti i suoi attori, quando si esce da questa fase che fa sì che non più di due economie siano in espansione su 17, una esigua minoranza, il passaggio da questa fase, di una fase in cui invece al contrario una larga fetta, quasi una maggioranza, 7 su 17, se non ricordo male siamo sul 40% giù di lì in termini di proporzione, quando quasi la metà dell'economia mondiale vanta a un certo punto su scala mensile, le rilevazioni qui sono mensili, vanta un leading indicator crescente rispetto a 12 mesi prima, evidentemente siamo in una fase in cui l'economia sta ripartendo, ma non è ancora manifestato il pieno del vigore, ma questo non ci basta perché il mercato, che noi sappiamo essere un meccanismo anticipatore, il mercato evidentemente si trova già sui binari di una solida ripartenza, in questi casi potete immaginare è il momento in cui i media specializzati, fra virgolette, denunciano ancora la precarietà dell'economia, quindi di quella che è una ripresa a cui non viene dato grosso credito, però vedete dalle frecce tutte le volte che si raggiunge questa situazione di ritorno alla crescita da parte di una robusta quota, non ancora la maggioranza, ma venendo da una fase di prostrazione economica, ecco tutte queste fasi, e ne contiamo 5, l'ultima maturata lo scorso anno, sono fasi che tipicamente seguono, non coincidono, ma seguono di poco, di qualche mese i minimi dei mercati azionari, qui abbiamo il minimo, abbiamo l'indice delle borse mondiali, il Morgan Stanley World, con tutti questi casi evidentemente è tardivo l'ingresso, ma un bravo investitore non compra sul minimo, un bravo investitore cerca se possibile di individuare la tendenza prospettica, non osserva la realtà dallo specchietto retrovisore, ma cerca di scorgere attraverso il parabrezza e tutte le volte che si interviene in queste circostanze che l'economia, che la macroeconomia ci suggerisce, ci suggerisce, sono interventi che sicuramente storicamente sono stati premiati da diversi mesi, per non dire alcuni anni di crescita, e quindi l'auspicio, il mio auspicio personale, che è il segnale che è maturato allo scorso anno, soltanto pochi mesi fa, possa ancora manifestare i suoi effetti benefici sulle quotazioni azionarie e quindi sugli investimenti che sono orientati prevalentemente sul mercato azionario. Gaetano, la differenza tra leading indicator e leading indicator, perché loro magari non la sanno bene? Quando parli di leading indicator, a cosa ti riferisci? È un misuratore che l'Ocse calcola sulla base di alcuni parametri, sono una dozzina di misuratori di stato di salute dell'economia, quindi si spazia dall'occupazione ai consumi, alla produzione industriale, al mercato del lavoro, quindi sono dei parametri che l'Ocse sintetizza in questo misuratore e che hanno storicamente la capacità di anticipare l'andamento dell'economia reale. Se non sbaglio, fra questi 12 ci sono anche un paio di misuratori finanziari, quindi tassi di interesse, visto che il tasso di interesse, come sapete, è il prezzo di un'attività, di una materia prima, che è il denaro e quindi il tasso di interesse. I rendimenti del mercato obbligazionario finiscono per avere a loro volta la capacità di predire quella che sarà la tendenza dell'economia reale. L'Ocse non ci rende nota la formuletta che viene utilizzata per calcolare il leading o legging indicator, sappiamo che sono indicatori che hanno la capacità con la loro sintesi di fotografare lo stato di salute dell'economia reale, quindi la capacità che il ciclo economico stia svoltando verso l'alto o piuttosto che verso il basso. Questo è un altro caso di una relazione leading e anche in questo caso, vedete, c'è un'accettabile correlazione, se si accetta il principio per cui il nesso non è tanto fra economia e mercato azionario, quindi fra misure dell'economia e valutazioni e quotazioni del mercato azionario. Il nesso è fra economia e performance del mercato azionario. Qui abbiamo un altro indicatore che si utilizza abbastanza nella pratica operativa, che è lo ZEV. Lo ZEV è un istituto di ricerca tedesco che interpella un certo, un robusto numero di esperti finanziari, economisti, analisti, chiedendo loro cosa si aspettano dall'economia reale tedesca e quali sono invece le loro prospettive future. Quindi è una fotografia della situazione corrente, per cui viene elaborato un indice coincidente, lo ZEV current, e quali invece sono le loro aspettative future, ed è l'indice quindi delle expectation, delle aspettative. Mi lascio immaginare, il primo dato in questo momento è su livelli sconfortanti, quindi la lettura corrente è, come evidentemente sappiamo, quella di un'economia che fa fatica a ripartire, ma ci sono delle, come direbbe Pozzetto, interessanti prospettive per il futuro. C'è la possibilità, c'è la percezione che l'economia stia migliorando, sia destinata al miglioramento e non il contrario. Questo lo vediamo dal fatto che lo ZEV, che qui è riportato in nero, da diversi mesi ormai punta solidamente verso l'alto e di recente si è anche spinto in territorio positivo, lo ZEV si spinge verso i 20 punti. Questo, anche in questo caso, non abbiamo la possibilità di conoscere il meccanismo di calcolo, ma la dinamica crescente dello ZEV expectation negli ultimi, credo, otto mesi, lascia, come dire, apre uno spiraglio di possibilità, di possibilismo per il ciclo economico tedesco, che poi vi ricordo è quello che rappresenta un quarto dell'economia dell'eurozona, quindi piacciono l'economia tedesca, è un riferimento obbligato. E questo però getta, come dire, crea irritazione, crea frustrazione da parte di molti osservatori, di molti investitori, perché lamentano il fatto, la discrepanza in essere fra un'economia, quella tedesca, che fa un'enorme fatica ed è un eufemismo a uscire dalle secche da due anni, cioè da quando ha affrontato degli shock sul piano macroeconomico, che sicuramente tutti quanti conoscerete, alludo, alle venir meno di fonti di approvvigionamento energetiche abbondanti a basso costo, e quindi fra un'economia, quella tedesca che non riesce a ripartire, che cerca di voltare pagina, è invece un mercato azionario raffigurato, rappresentato dall'indice DAX di Francoforte, dalla borsa di Francoforte, che correntemente fa di 11 al mondo su 25, sui massimi storici. Ma come? Ma come? L'economia tedesca è sull'orlo della recessione, ci entra, ci esce per un rimbalzino illusorio, poi ci ricade dentro perché non riesce a fare i conti con un paradigma di crescita che ormai è stato accantonato definitivamente, è l'equity, è il mercato azionario, è sui massimi storici? Ma sì, ma sì, perché la relazione non è fra economia e mercato, ma fra economia è derivata prima del mercato azionario, cioè fra performance dell'indice DAX, qui vediamo in rosso, il tasso di crescita ha 12 mesi dell'indice della borsa di Francoforte e da questo punto di vista in effetti c'è una relazione, c'è un'identità non sempre perfetta, alle volte è lo ZEV che anticipa, alle volte il contrario, ma in qualche modo c'è una correlazione abbastanza evidente da poter dire che il rapporto non è fra economia reale e mercato azionario, ma fra economia reale e performance del mercato azionario. In effetti ci possono essere delle divergenze, delle pause in questo rapporto simbiotico che però, esperienza degli ultimi 12 mesi, come vedete, sono divari che vanno poi rapidamente rientrando, in questo caso è stata l'economia reale che soltanto negli ultimi mesi si sta rialineando al tasso di crescita del mercato azionario, il rosso, che quindi sta convergendo verso il basso, ma quindi è stato un rialineamento che è maturato soprattutto per effetto dell'economia che sta con ritardo accettando, quindi assecondando quello che è stato l'indicazione spavalda, se volete, di un anno fa delle equiti che cresceva, nonostante le misure dell'economia reale andassero in tutta altra direzione. Quindi la relazione c'è, però vi ripeto, è sempre bene avere in mente questo rapporto che è sempre indiretto e non diretto. Questo lo possiamo verificare su più fronti, qui per esempio abbiamo un indicatore che utilizziamo molto, non molto in Italia, ma molto in Asia Italia, passatemi la battutaccia, che è il CESI. Che cos'è il CESI? Il CESI in questo caso è un indice che ha tante banche, tante istituzioni finanziarie calcolano, in questo caso è calcolato da Citi, quindi è la prima lettera dell'acronimo, Economic Surprise Index, cioè è un indice che misura lo scostamento fra i dati macro, tutti i dati macro che sono pubblicati per un'economia, in questo caso l'economia è quella del G10, quindi le principali economie al mondo, tanto sviluppate quanto le principali emergenti, Cina, Brasile e India, nello specifico. Quindi il flusso di dati macro che ogni giorno viene pubblicato per queste economie è confrontato con le aspettative precedenti, il rilascio di questi dati da parte degli economisti, che vengono interpellati, che formano un consenso su un certo dato, lo scostamento fra queste due realtà, quindi dato effettivo e previsioni precedenti degli economisti, crea evidentemente un gap, un divario, una misura positiva o negativa che poi viene accumulata su base rolling, su base trimestrale, e forma una misura, un dato, che è la linea rossa, che può essere crescente o meno. Un CESI, quindi un Citi Economic Surprise Index, un CESI crescente, come avviene da inizio anno, cosa ci dice? Ci dice che i dati macro pubblicati sono risultati, nella maggior parte dei casi, su base trimestrale, sono risultati superiori alle aspettative degli economisti. E questo è un altro dato, credo il terzo dato che dobbiamo scolpire nella pietra. Il mercato non è sensibile ai dati che vengono pubblicati, il mercato è sensibile allo scostamento del dato macro pubblicato rispetto alle aspettative che ne hanno preceduto alla vigilia, alla pubblicazione. Questa aspettativa viene poi cementata da organismi che si preoccupano di farci sapere prima del rilascio, penso a Bloomberg, penso a Reuters, penso ad altre società, sono dati che vengono poi resi noti alla vigilia in modo da farci sapere in che misura ci sarà uno scostamento in un senso o nell'altro. E quindi è questo l'aspetto che muove i mercati finanziari, non più soltanto azionari. Perché qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo confrontato il Cesi, che vi ricordo essere la linea rossa ed è una linea che cresce se i dati macro sono superiori alle aspettative e decresce nel caso contrario. Questo dato l'abbiamo confrontato con la differenza tra le performance di equity e bond, cioè mercato azionario e mercato obbligazionario, ed è ovviamente la linea cereste. In questo caso una linea crescente cosa vuol dire? Vuol dire che il mercato azionario cresce di più o decresce di meno, evidentemente, del mercato obbligazionario. Il mercato azionario sovraperforma il mercato obbligazionario se la differenza tra le performance a tre mesi evidentemente è inclinata verso l'alto. Se la differenza è rivolta verso il basso, la linea è calante, vuol dire che in quel caso il mercato obbligazionario sta sovraperformando. E vedete che anche in questo caso c'è una certa identità. Quindi la relazione c'è fra le due misure. Ma la relazione, quindi un investitore che divide il suo patrimonio fra parti variabili a seconda della sua propensione al rischio, fra equity, fra mercato azionario, mercato obbligazionario, quindi preferendo l'altro, l'uno piuttosto che l'altro, ecco, deve essere ben consapevole che il suo portafoglio, quindi la performance fra le due asset class, è sensibile non all'economia, non all'andamento economico in generale, ma è sensibile evidentemente alla capacità che ha l'economia di fare meglio o peggio di quelle che sono le aspettative circa le variabili macro che vengono pubblicate, in questo caso nel G10, quindi nelle principali economie mondiali, ma è un discorso che possiamo allargare a tutte le singole economie e quindi è un fenomeno che si ritrova in tutti gli esempi che possiamo pubblicare. Quindi questo è un altro principio che volevo trasmettervi, molto importante. I mercati sono sensibili non tanto all'economia in assoluto, quanto alla capacità che è l'economia di sorprendere gli operatori, perché questo non fa altro che indurre poi una rivalutazione del proprio operato, quindi nel momento in cui l'economia dovesse essere sorprendentemente positiva, come è successo spesso e volentieri negli ultimi 16 mesi, in cui si spingerà gli operatori, gli investitori, a sacrificare una quota di reddito fisso di mercato obbligazionario e a vantaggio del mercato azionario. Mi avvio a conclusione, così potrò prendere fiato e magari rispondere a domande su aspetti che magari possono non essere risultati abbastanza chiari. Per segnalarvi come spesso, come in alcuni casi, addirittura l'economia reale può anticipare il mercato finanziario. Abbiamo detto che la prima slide di oggi, avete visto, vi ricorderete, ci suggeriva che tendenzialmente il mercato azionario anticipa l'economia reale, lo fa di un paio di trimestri, di sei mesi. Qui vorrei propormi come qualche volta avviene il contrario. E questo per noi analisti, quindi per noi deputati alla previsione, quindi a questa via di mezzo fra scienza e arte del vaticinare, il futuro dei mercati finanziari, emanna dal cielo. Qui vediamo due misuratori dello stato di salute dell'economia mondiale, il Global PMI, che è la linea in azzurro, e il PMI svedese, quindi Purchasing Manager Index, quindi l'indice del, per farla breve, che misura lo stato di salute dell'attività manifatturiera, in questo caso della Svezia. Perché la Svezia? Perché la Svezia è un'economia piccola, sicuramente, ma è un'economia molto aperta agli scambi internazionali, quindi è il canarino nella miniera. È la prima economia che percepisce il miglioramento o il peggioramento della congiuntura economica, perché è la prima che registra un aumento degli ordinativi, e la Svezia si trova nella parte intermedia del ciclo globale, quindi è una fornitrice di beni intermedi. Per cui se l'economia va bene in Svezia, questo anticipa il benessere dell'economia globale. Sono misure apparentemente sovrapponibili, entrambi sono misure di due realtà terrestri, quindi è abbastanza normale che siano sovrapponibili, però in alcuni casi l'economia svedese, quindi il PMI svedese, vi ricordo quello in nero, anticipa l'economia mondiale. Lo vediamo dalle linee verticali in verde, che individuano tutti i casi in cui il PMI della Svezia raggiunge un massimo a 12 mesi, quindi questo è un altro di quei setup, dopo essere sceso ai livelli più bassi perlomeno degli ultimi due anni, degli ultimi 24 mesi. Quando questo fenomeno si manifesta, quindi quando si passa da una fase di prostrazione economica col PMI svedese sui livelli più bassi degli ultimi due anni ha una situazione in un breve arco di tempo in cui il PMI si colloca sui livelli più elevati degli ultimi 12 mesi, ecco in questi casi abbiamo questa evidenza di un'inversione verso l'alto che poi è seguita, ma non è questo il punto, ma è seguita da una dinamica crescente anche del PMI globale. E cosa ci facciamo di questo dato? E ci facciamo tanto, perché quando c'è questo tipo di configurazione, quando l'economia, questa piccola economia di Stoccolma segnala che il ciclo economico globale sta migliorando, vediamo quando questo è successo sullo Standard & Poor's 500 che è l'indice che misura i prezzi delle azioni americane, cioè del 60% del mercato azionario mondiale in sostanza. Anche in questo caso, come in un altro episodio precedente, vedete come questo setup, questa situazione che è maturata a novembre, quindi soltanto 3-4 mesi fa, molto molto recentemente, è un tipo di configurazione che si manifesta sicuramente dopo i minimi di mercato, ma soltanto i fortunati e i bugiardi comprano azioni sui minimi di mercato, ma soprattutto prima di rialzi importanti dei prezzi azionari nei mesi e vorrei dire negli anni successivi. E noi siamo appunto, come vi dicevo, in presenza di un segnale che è maturato soltanto pochi mesi fa e che teoricamente, se vediamo la casistica storica, ha ancora diverso tempo davanti a sé questo rialzo per manifestarsi. Quindi anche questo è un caso in cui, un raro ma efficace esempio, in cui in questo caso l'input ci parte dall'economia reale e sopraggiunge e raggiunge il mercato azionario. Ci sono diversi casi, qua per esempio ritroviamo lo ZEV, vi ricordate questo misuratore dell'orientamento degli esperti, degli operatori finanziari tedeschi, lo ZEV Institute di, credo di Berlino, o comunque tedesco, ed è sempre la linea in azzurro. Ecco, lo ZEV in questo caso anticipa, perché qui lo abbiamo spostato in avanti di cinque mesi, e finisce per coincidere abbastanza con quella linea nera. Cos'è quella linea nera? È la variazione a 12 mesi dei rendimenti del Bund che vedete in alto. In alto quindi ci sono i rendimenti, attualmente al 2,50%, in basso c'è la variazione anno su anno, quindi valore assoluto, non in percentuale, in valore assoluto, dei rendimenti del mercato obbligazionario tedesco. Scusa, il Bund è l'obbligazionario tedesco, loro magari disperano. Sì, il Bund è il nome che si assegna al titolo di Stato emesso dal governo di Berlino, quindi le cambiali che il governo tedesco, poche per la verità, e per quello prezioso e spesso e volentieri, emette per finanziare il deficit di bilancio. Quindi il Bund, ed è un parametro rilevante per capire il costo del denaro nell'Eurozona, nell'area Euro. E quindi qui abbiamo un'altra misura macroeconomica, uno di quei rari, ma preziosi casi di variabile macroeconomica, nello specifico le aspettative dello ZEV di questo indicatore calcolato in Germania, questo dato anticipa tipicamente di 5 mesi l'andamento della variazione anno su anno dei rendimenti del titolo obbligazionario tedesco. E quindi chiaramente questo cosa ci suggerisce, e concludo, suggerisce la possibilità che i rendimenti attuali siano destinati a crescere. La linea nera, che è tardiva rispetto allo ZEV di 5 mesi, su questi livelli appare destinata a passare da valori leggermente negativi, riflettendo una performance analoga del rendimento del Bund anno su anno, a valori ampiamente positivi. Quindi lo scenario che si prefigura, che si immagina, è quello di rendimenti obbligazionari crescenti, e quindi quotazioni, visto che sono il riflesso, quotazioni obbligazionarie calanti per i prossimi mesi, che è uno scenario evidentemente compatibile con cosa? Con l'idea di un'economia che, a sorpresa, ancora una volta, è destinata a far meglio delle aspettative. Se l'economia fa bene, il costo della materia prima che l'economia utilizza, che è il denaro, è un costo destinato a crescere, quindi tassi di interesse crescenti, che è quello che questa relazione ci sta suggerendo, ancora una volta disattendendo la maggior parte delle aspettative degli investitori. Quindi questo è un po' il quadro che volevo trasmettere, di quella di un'economia, nella maggior parte dei casi, following, quindi lagging, rispetto ai mercati finanziari, ma che in alcuni casi ci fornisce delle perle in grado di anticipare. E questo è di enorme, di grande utilità per chi fa il mio mestiere di previsore dei mercati finanziari, perché ci permette di avere un vantaggio, poi rispetto a chi è portato, chi è orientato a attendere i dati, a essere data dependent, come dice Powell, quindi ad attendere, profilarsi dei dati macro, per poi prendere delle decisioni. credo abbiamo ancora qualche minuto, per cui se avete delle domande, sono contento di rispondervi. Senza che io debba girare, non so se mi senti ancora. Sì, ti senti ancora. Oh, mi siedo, perché l'altra volta ho visto che ero da un'altra parte, ecco, adesso sono tornato a scuola, con te imparo sempre tanto. Eh, sicuro. Sì, sì. E comunque hai dato, adesso entro io nella cosa, hai dato una notizia in chiusura, che loro magari, però, tutti si aspettano in Italia di interesse, e tu hai impaventato addirittura un rialto. E mi trovi d'accordo su questa forza dell'economia? Mi trovi d'accordo? Sai, c'è un grillo parlante che si chiama Summers, che è un ex banchiere centrale della Federal Reserve, è un po' la bestia nera, perché in un coro unanime di banchieri centrali in America che si aspettano tagli, c'è soltanto un dubbio sulla tempistica, si diceva marzo, ma ormai marzo non se ne parla più, allora maggio, no, maggio è troppo presto, giugno, beh, forse giugno, ma ha il 56% di probabilità, molto basso. Beh, questo Summers dice, ma voi ve lo potete scordare, qui la prima misura, il primo intervento del 2024 sui tassi di interesse sarà di aumentare i tassi di interesse, non se ne parla di tagliare i tassi di interesse perché l'economia va bene e l'inflazione non scende più e si sta allontanando dalla prospettiva di avvicinarsi al 2% che è questo mantra che le banche centrali si sono assegnate da diversi anni a questa parte, ha ragione o ha torto, è un altro discorso, ma quindi l'idea che i tassi ufficiali possono essere aumentati è un'idea assolutamente minoritaria, quasi blasfema in questo momento, ma è un'idea che credo nei prossimi mesi prenderà corpo, magari non si arriverà a questo, ma venivamo due mesi fa, quasi tre mesi fa, dall'idea di sette tagli del Fed Fund nel 2024, adesso siamo, si parla di tre tagli, forse meno, e chissà che nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, si arriverà a escludere, per quest'anno, la prospettiva di tagliare i tassi di interesse, che sarebbe clamoroso se pensiamo a, a quello che ci si diceva due mesi fa, b, a quanti investitori hanno comprato titoli di Stato, proprio nell'aspettativa di tagli feroci che non si manifesteranno più. Grazie Gietano, l'ultima cosa, visto che siamo qui, loro sono desiderosi di imparare, e te, insomma, hai una libreria infinita. Anche io sono desideroso. Gli daresti due dritte su dei libri, su cosa fare per la loro curiosità, per la loro crescita personale, dei consigli. No, sentite, io, come vi diceva, come si parlava, dicevo poco anzi, mastico, mangio pane, analisi tecnica da 30 anni. Ho imparato a accettare queste contaminazioni macroeconomiche perché mi piace la macroeconomia e trovo, avete visto, che ci sono delle relazioni spesso inconsuete, molto, cercate di, siate curiosi, mi sembra di essere un Steve Jobs dei poveri, quindi portate pazienza, però il vostro processo sarà una serie di stratificazioni che vi porteranno in diverse direzioni, ognuno di voi avrà un suo percorso. Io, quando ero ragazzo quanto voi, poco più di voi, iniziai a invaghirmi della teoria delle onde di Elliot, che sicuramente conoscerete o che studierete nei prossimi tempi, è stata una sbandata, una crash, come si dice oggi, clamorosa, che mi ha fatto perdere un sacco di soldi, ma era un frammento del processo di crescita pagato a caro prezzo che è stato doveroso affrontare. Credo personalmente che quella teoria delle onde di Elliot sia più pericolosa che efficace, tanto meno utile, ma è stato un passaggio obbligato nel processo di formazione, quindi io non mi sento di darvi, i libri sono quelli che conoscete, insomma, si parte da quelli dei classici, i primi, che fanno bene, ci sono decine, centinaia di libri, io ho trovato particolare utilità nei libri scritti dai gestori di hedge fund, magari faccio dei nomi, Linda Reschi, Larry Connors, sono operatori che hanno dei fondi di investimento, hanno degli hedge fund e che hanno delle tecniche di intervento molto semplici, non così, non crediate che gli operatori siano dei soggetti che hanno, sì, c'è Jim Simmons che ha un matematico famosissimo e ha un fondo inaccessibile, non è possibile essere, diventare sottoscrittore che usa delle tecniche matematiche raffinatissime, ma sono la minoranza, molto spesso i gestori, i trader di fondi comuni sono, di fondi hedge sono operatori che usano delle tecniche molto elementari, ma sempre codificate, ecco, questo è quello con cui vorrei concludere, tutte le vostre idee che vi baleneranno perché lo apprenderete o sarete contaminati dai libri o che maturerete in vostro seno, devono sempre essere testate, se non sono testate sono fuffa, che siano le candele, GAN, ELEO, DAO, Trendline, tutto quello che volete, tutto quello che studierete su questi banchi o al di fuori di questi banchi, fate in modo che siano testabili, se non sono testabili, lasciate perdere, sono fuffa. Grazie, questo, noi ci proviamo, ci proviamo a testarle, poi a volte sul mio portatile non ho il codice scritto bene, e più il tempo però, ecco, sì, mi diverto questo, io, partiamo proprio da questo aspetto qui, i numeri prima di tutto. Sì, sì, sì. Grazie, Gaetano, non ti prendo altro tempo, loro hanno un'altra lezione, io ti ringrazio tanto, ragazzi. Buon lavoro, alla prossima. Buon lavoro, Grazie a tutti.